Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questo 81esimo episodio del podcast di Marcos Box con il riassunto delle principali notizie della settimana. Apriamo questa puntata parlando del rilascio delle versioni beta di Fedora 33 e di Ubuntu 20.10. Entrambe le distro sono entrate nella fase beta prima del rilascio stabile previsto per entrambe per la fine del mese di ottobre. Entrambe porteranno interessanti novità ed entrambe nell'edizione principale vedranno l'arrivo di Gnome 3.38. Su Fedora come sempre abbiamo una esperienza da Gnome pura e su Ubuntu la sua consuleta reinterpretazione in casa canonica volta a rendere il desktop environment più usabile anche per gli utenti alle prime armi. Ma iniziamo a parlare delle novità di Fedora 33. La più grande novità di questa vista vede l'arrivo di BTRFS per impostazione predefinita. Di questa novità ve ne avevo parlato già qualche puntata fa e su blog sono presenti alcuni link per meglio approfondire i vantaggi di questo file system. Le altre novità riguardano una migliore gestione energetica, miglioramenti della reattività sull'edizione KDE e Nano che ora è, come giusto che sia, l'edito predefinito. Da Ubuntu troviamo invece l'arrivo dei kernel 5.8 che tra i suoi miglioramenti portano con sé un miglior supporto alle CPU AMD Renoir, Ryzen 4000 in pratica, un nuovo driver ex-FAT ed una migliore gestione energetica, migliorando inoltre gli stagli ubiquiti con l'integrazione di Active Directory. Restando in caso Ubuntu, Dell questa settimana ha annunciato un refreshment, un aggiornamento della sua linea XPS 13 Developer Edition che viene aggiornata ai nuovi processori Intel Tiger Rake da 10nm di undicesima generazione. Il XPS 13 Developer Edition, per chi non lo sapesse, è quell'ultrabook venduto da Dell che viene rilasciato con Ubuntu preinstallato, nella fattisprice dell'ultima edizione, con Ubuntu 20.04. Se volete farmi un regalo sapete cosa comprarmi. Io lo dico sempre che non so mai qualcuno mi vuole fare una sorpresa e sapete cosa comprarmi. Da Ubuntu passiamo alla sua derivata più famosa e apprezzata, ovvero Linux Mint. Puntuale come sempre, anche per questo mese di ottobre, è arrivato il consueto post di Clemente Refebbre sulle novità del mondo di Linux Mint. Fra le novità che ci aspettano per Linux Mint 20.1 troviamo l'arrivo di Chromium. Sì, il team di Mint ha finalmente deciso, dopo la guerra portata nei confronti di Ubuntu per via dello snap di Chromium, di iniziare a compilarsi da solo Chromium, in modo da poterlo proporre nei propri repository, direttamente quindi come pacchetto dev. La prima build è già disponibile e può essere testata sul blog, trovate i link per poterla scaricare. Mint si arricchisce inoltre di un nuovo programma chiamato Sticky Notes, che consente di creare dei post-it da poter lasciare sul nostro desktop, quindi tempestare il vostro desktop virtuale di post-it virtuali. Anche in questo caso si tratta di una prima build sperimentale, il team è in cerca di tester per eventuali feedback e segnalazioni di bug. Le altre novità riguardano Web App Manager, che ha subito alcuni miglioramenti nell'interfaccia grafica, la decisione di abilitare l'accelerazione video hardware su celluloid per impostazione predefinita e miglioramenti vari al driver manager e al supporto delle stampanti USB. Ah, e quasi mi dimenticavo di dirvelo, è stato anche annunciato il nome in codice di Linux Mint 20.1, che si chiamerà UIS. Sì, è UIS, avete capito bene. Evidentemente, trovare un nome con la U era un'impresa impossibile, quindi hanno optato per questo nome, che è molto curioso. Passiamo adesso alle notizie del mondo di KDE. La prima riguarda l'impresa di un utente di Reddit che è riuscito a far girare KDE Plasma su Windows 10, grazie al Windows Subsystem per Linux. Sì, avete capito bene, è tutto KDE, quindi con tutti i cucuzziare e applicazioni e quant'altro. Che il 2020 sia davvero l'anno di Linux su desktop, chi lo sa. Sul blog comunque trovate maggiori dettagli al riguardo e nel caso vogliate replicare questa magia, tra virgolette. L'altra notizia dal mondo di KDE riguarda un'anteprima di Breeze Evolution, che è la nuova versione del tema Breeze di KDE, che potremmo ammirare su KDE Plasma 5.21. Devo dire che il restructuring non mi dispiace affatto, speriamo solo che riescano anche nel frattempo a trovare qualche workaround per migliorare ulteriormente l'integrazione con il GTK. Comunque su Marcosbox trovate maggiori approfondimenti nell'articolo dedicato con alcuni screenshot. Le ultime due notizie riguardano due argomenti leggermente diversi dalla solita programmazione del blog. La prima riguarda la nascita di OpenRousseau, che altro non è che una versione a codice libero di Rousseau, la piattaforma messa su da Movimento 5 Stelle per coinvolgere il proprio elettorato. Maggiori dettagli sul perché e come verrà realizzato il tutto li potete trovare su Marcosbox. Infine l'ultima notizia della settimana riguarda il bonus PC, tablet ed internet che è diventato finalmente operativo con la pubblicazione in gazzetta ufficiale. Il bonus governativo offrirà un voucher da 500€ che sarà spendibile dai cittadini con i 6 fino a 20.000€ per dotarsi di una connessione a banda larga, minimo 30MB, e di un PC o tablet che sia, che verranno forniti in bundle dall'operatore di telefonia con il quale si sottoscriverà questo contratto agevolato. Ve ne ho parlato perché potrebbe interessare ad alcuni di voi, ma anche perché le modalità di sottoscrizione di questo voucher non sono piaciuti all'IRES, che altro non è che l'associazione italiana dei retailers elettrodomestici specializzati, che si lamentano dell'impossibilità per i cittadini di potersi rivolgere a rivenditori specializzati terzi per acquisto di PC o tablet. Di fatto questo bonus, questo voucher, così come è strutturato, è uno strumento che va a tutto vantaggio dei soli operatori di telefonia, sfavorendo imprese terze, ma anche i cittadini consapevoli di quello che vogliono andare a comprare. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate sul blog. Beh, con questo per oggi è davvero tutto, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana con un prossimo episodio del podcast di Macro's Box. Ciao ciao!